fa effetto parlare di questo argomento perché stiamo a parlare di una figura importantissima della S Roma ne avevamo parlato già qualche tempo fa ha detto non voglio abbandonare il calcio la Roma non lo vuole più, non lo voleva più se ne è andato e ragazzi sembra praticamente quasi fatta Daniele De Rossi vicinissimo alla Fiorentina a riferirlo è Alfredo Pedulla ciao, bello a tutti da me vi invito a scaricare dal link in descrizione OneFootball aspettate eh, OneFootball a mio modo di vedere la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio gratuita sia per iOS e sia per Android ammaliato dal progetto ragazzi ci aveva anche altre offerte se parlava di Sampdoria, se parlava di Milan, se parlava di Inter, se parlava di Bologna e se parlava di Fiorentina Milan che stava provando a prenderlo perché Giampaolo lo aveva espressamente richiesto ma siccome questa persona qui è un signore ha detto comunque tra Milan e Roma diciamo che c'è sicuramente più competitività rispetto alla Fiorentina e quindi non voglio fare uno sgarro ai tifosi della Roma carissimo Daniele fossi andato al Milan io comunque non me la sarei assolutamente presa ti sei comportato fin troppo da signore con la società e sappiamo che non dipende assolutamente da te quindi non devi assolutamente giustificarti di nulla ti avrei assolutamente capito però capisco anche in parte la tua scelta dici comunque Firenze è una piazza importante stanno cercando di rifondare è arrivata una nuova proprietà un nuovo proprietario che comunque ha voglia di fare ha voglia di investire e quindi da qui l'offerta della Fiorentina in cui va a ritrovare Vincenzino Montella riconfermato come allenatore Pratè, vecchia conoscenza della Roma è appunto commisso che lo vuole parte del progetto si parla di uno stipendio si parla di un contratto scusate di un anno e di opzione di rinnovo per il secondo perché comunque ragazzi De Rossi qualcosa sicuramente ancora ancora può darlo al calcio al calcio giocato poi che diventerà un allenatore io ci metto la mano sul fuoco sono assolutamente convinto di tutto questo diventerà sicuramente un grandissimo allenatore fa effetto ragazzi perché fa effetto magari poi ne riparliamo quando sarà quando sarà ufficiale perché sentì un giocatore della Roma così importante accostato ad un'altra squadra o comunque addirittura avvicino ad un'altra squadra pensa solamente che l'anno prossimo tu vai a giocare con la Fiorentina e ci sta Daniele De Rossi che gioca contro De De che ti potrebbe segnare che potrebbe mettere tutta la sua esperienza tutta la sua professionalità al servizio di un'altra squadra ovviamente un minimo ci rimango non dico che ci rimango male però mi fa effetto ragazzi perché De Rossi non ce lo so vede con altra maglia cioè sinceramente in Italia non ce lo so vede con altra maglia però ripeto lui vuole restare in Italia se sente ancora un calciatore la società non ti vuole più è giusto che tu fai le tue scelte non dipende da te quindi sicuramente giocheremo contro Daniele De Rossi secondo me può ancora lo ripeto può ancora dare tantissimo a livello fisico magari non potrà permettersi di giocare 38 partite dei campionati però secondo me almeno 15-18-20 le può fare senza troppi problemi se giocherà a titolare dove si arriva la Fiorentina ci metto la mano sul fuoco ragazzi finché lui a livello fisico ce la fa molto probabilmente giocherà a titolare anche perché De Rossi lo conosce bene non a caso quindi aspettate ho bello che ho messo il tè al limone tutto cazzo è buono ma se fosse per me bevo 5 bottiglie al giorno vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti come la prendereste la notizia di un'ufficialità di Daniele De Rossi alla Fiorentina lasciate un bel mi piace su questo video arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio commentate col vostro parere appunto condividete il video iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto scelta giusta di De Rossi la Fiorentina l'anno scorso ragazzi ha barcollato ha rischiato veramente tanto difficilmente rischierà anche quest'anno penso perlomeno perché comunque l'organico c'è soprattutto dovesse riuscire a trattenere Chiesa e tutti gli altri giocatori del pacchetto e Bologna sicuramente è una realtà un po' differente anche se con Mijajlovic ragazzi alla fine si sono salvati e potrebbero essere competitivi l'anno prossimo ripeto sicuramente Milan è superiore attualmente rispetto alla Fiorentina quindi se voleva fare una scelta di competitività magari poteva scegliere proprio il Milan o l'Inter anche se poi pare che si sia defilata pare che non ci siano state offerte concrete Sampdoria anche che comunque non è una cattiva realtà però evidentemente si ha scelto Firenze è la destinazione calcisticamente parlando a lui più consona e forse anche a livello territoriale chi lo sa non è poi così distante da Roma Firenze diciamoci la verità quindi vediamo vediamo come andrà se alla fine tutto questo diventerà ufficiale io faccio un grosso in bocca al lupo a Daniele De Rossi nostro ex capitano ormai per il futuro perché se lo merita perché è il ragazzo d'oro perché professionisti così ce ne stanno veramente pochi nel mondo del calcio e se vede che non lo fanno solo per soldi ragazzi ma che lo fanno anche e soprattutto per amore per amore ciao